Gossip, Jeremies Rodriguez tra i daiespica il trono di uomini e donne Nuovi interessanti gossip su Jeremies Rodriguez e la sua vita, pare che l'argentino corteggi e daiespica ma potrebbe sbarcare a uomini e donne Da quando ha partecipato al grande fratello Vip, Jeremies Rodriguez è diventato uno dei personaggi di punta del gossip nostrano, il tira e molla con Sara Battisti, il riavvicinamento ad Aidaiespica e le voci, che lo vorrebbero sul trono di uomini e donne Sono soltanto alcune delle notizie, che sono uscite ultimamente sul suo conto In una recente ospitata tv, ad esempio, il fratello di Belen ha confermato il suo interesse per la venezuelana, che, però, sarebbe già impegnata, mentre in un'intervista ha confessato di aver rifiutato il programma di Maria De Filippi solo pochi mesi fa Jeremies Rodriguez ci prova con Aida ma lei avrebbe un altro I fan del grande fratello Vip ci hanno sperato fino all'ultimo, che tra Aidaiespica e Jeremies Rodriguez potesse nascere un sentimento, un po' come è successo tra Cecilia e Ignazio Moser nella casa Nelle ultime settimane, quando ormai sembrava sfumata la possibilità, che i due sudamericani diventassero più che buoni amici, hanno iniziato a circolare alcuni gossip su una loro nuova frequentazione Grazie ad alcuni indizi, che i più attenti hanno raccolto sui social network, dunque, molti siti di informazione erano tornati ad occuparsi della coppia Si dice, infatti, che i due sarebbero stati avvistati spesso a cena insieme a Milano, e che l'argentino sia comparso più volte nelle dirette Instagram della show Giri Forse per cavalcare questa notizia, Alfonso Signorini ha invitato entrambi i protagonisti nel suo programma, che va in onda sul web ed ha provato a sapere qualcosa in più su questo misterioso legame Il fratello di Belen ha confermato di essere molto interessato alla venezuelana e di sperare ancora che lei ceda alla sua corte, quest'ultima è apparsa più frenata di fronte alla possibilità, che tra loro possa nascere qualcosa Piccolo delle news, in seguito alla partecipazione di Jeremia Seda a casa Signorini, ha fatto sapere che dietro alla titubanza di lei ci sarebbe un motivo ben preciso, stando a quello che si dice sui social, infatti, la Iespica frequenterebbe da un po' di tempo l'imprenditore Matteo Cavalli, e che i due sarebbero addirittura inseparabili. Cosa ne penserà il bel Rodriguez di tutto questo? Jeremia Seda confessa, ho rifiutato uomini e donne dopo il GF VIP La storia d'amore con Ada Iespica non sa da fare, perciò Jeremia Rodriguez risulta ancora single e alla ricerca della donna ideale. Dopo aver messo fine alla turbolenta relazione con Sara Battisti, infatti, il ragazzo non si è più fatto vedere in dolce compagnia e molto giornali di gossip hanno ipotizzato, che lui potesse essere il candidato principale al trono di uomini e donne. Nelle tante interviste che ha rilasciato in queste settimane, l'argentino ha sempre respinto la possibilità, che a breve potesse diventare uno dei volti del Beofle Show di Canale 5, in quella concessa a Nuovo TV in particolare, ha svelato un dettaglio inedito su questa situazione. Interpellato sulla voce, che lo vorrebbe in corsa per un posto nel trono classico di UD, il fratello di Belen ha detto, mi hanno offerto il trono quando sono uscito dal grande fratello VIP. In quel momento ho detto istintivamente di non, chissà, mai dire mai. È la prima volta, che il bel Rodriguez confessa di essere stato in contatto con la redazione del programma Mediaset e di essere stato richiesto come tronista al termine della sua esperienza nella casa. Se quando ha rifiutato la famosa poltrona rossa frequentava Sara, ora che singheliere Mias è pronto a proporsi a Maria De Filippi?